Arriva il primo stanziamento di fondi a cui seguiranno risorse aggiuntive per comuni e famiglie colpiti dall'emergenza incendi del 23 luglio dello scorso anno. Il capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale Curcio ha firmato l'ordinanza che regolamenta l'uso delle risorse pari a 6 milioni e 100 mila euro stanziate lo scorso febbraio dal Consiglio dei Ministri per gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza incendi e ondate di calore che hanno interessato a partire dal 23 luglio dello scorso anno le province di Messina, Palermo, Catania e Trapani. La delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lo scorso 23 marzo, individuato quale commissario delegato il Presidente della Regione Siciliana, che entro 30 giorni dalla pubblicazione dovrà con proprio provvedimento individuare i comuni interessati inviandola al Dipartimento della Protezione Civile e predisporre nel limite delle risorse disponibili un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Per le famiglie sfollate per inagibilità dell'abitazione, previsti ristori a partire da 400 euro i mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di 900 euro mensili per i nuclei composti da 5 o più persone, con ulteriori 200 euro mensili per ogni componente che abbia più di 65 anni o in validità non inferiore al 67% e dentro il limite massimo di 5.000 euro a famiglia. I benefici economici sono alternativi alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'amministrazione pubblica. Le imprese potranno invece ricevere un sostegno per le spese necessarie alla ripresa dell'attività, con un contributo massimo di 20.000 euro per ogni impresa. Il commissario delegato dovrà identificare anche le misure che riguardano gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità di servizi pubblici e infrastrutture di reti strategiche, gestioni, rifiuti e macerie nonché quegli interventi necessari e urgenti per mitigare eventuali ulteriori rischi connessi agli incendi, tenendo conto anche di un eventuale rischio collegato di alluvione o frana, dando priorità a quelli volti alla difesa di abitazioni ed edifici pubblici, strade principali di collegamento, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, scuole e altre infrastrutture di utilità pubblica.